Si terrà sabato e domenica a Trieste il Congresso Nazionale dei Fratelli d'Italia. Sono oltre 4.000 i delegati che arriveranno da tutto il paese per partecipare all'evento che nelle intenzioni degli organizzatori non sarà a porte chiuse ma viceversa vuole essere aperto a tutti. I triestini e non solo possono venire al Palasport, al Palatrieste o al Marena come vogliamo chiamarla e ovviamente i delegati del nostro partito saranno nel parterre ma anche tutti coloro vogliono vedere i lavori quindi assistere ai lavori potranno accomodarsi nelle tribune in uno spazio dedicato al pubblico. Quindi è un congresso aperto in un momento molto importante per Fratelli d'Italia a Trieste. Alle 10 prenderanno in via le operazioni di accreditamento e subito dopo dalle 10.30 gli interventi di apertura. Il primo a prendere la parola sarà il coordinatore regionale del partito Fabio Scocimaro seguito dal segretario provinciale di Trieste Claudio Giacomelli a cui faranno seguito gli interventi degli amministratori locali. Parlaranno i sindaci dei comuni capoluogo di questa regione e ovviamente poi inizierà il congresso e i lavori programmatici da Giorgia Meloni successivamente quindi indicativamente dalle 11 mesi in poi. Da evidenziare che per agevolare le famiglie di coloro che volessero assistere al congresso Fratelli d'Italia ha predisposto all'interno del Palo a Trieste un servizio di animazione per i bambini con personale qualificato ma non solo. L'occasione della presenza di tantissime persone verrà sfruttata anche per far conoscere la città e i suoi dintorni attraverso escursioni e visite guidate. È un gran bel banco di prova anche per la città, per il turismo. Mai è stato fatto un convegno politico di questo livello e anche il livello di congresso in generale al di là di quello che può essere l'impegno di un partito è mai stato fatto a Trieste e il Palo a Trieste quindi finora abbiamo visto grandi eventi, abbiamo visto concerti ma un congresso politico che dura due giorni la prima volta e spero sia propedeutico affinché altri stigono l'esempio, non solo partiti ma anche grandi eventi per poter così aumentare quello che è il flusso turistico della nostra città.